Si rinnova l'appuntamento con il grande calcio qui su EA Sports, due squadre in grado di far divertire ed emozionare con le loro stelle. Gara che promette spettacolo, non cambiate canale. È una bellissima giornata di sole, quella che accompagna oggi le squadre in campo, i tifosi ne hanno approfittato per riempire le tribune. Un saluto da Piero Gepardo e Leli Adani, grazie per aver scelto ancora una volta di stare in nostra compagnia. Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di alta tensione. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, eh. Gol, occasioni da rete, gli 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Occhio alla palla a gol, respinge la conclusione. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Il portiere non si lascia sorprendere. Portiere super qui, intervento prodigioso. Abbassato la sara cinesca, da qui non si passa. Ci mette il fisico per difendere palla. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. Osimman. Tackle vincente in area, pallone di nuovo loro. Le aspetta arriva sulla prova di Osimman, sono ovviamente altissime. Vedremo se sarà all'altezza. Non penso, è di esagerare, se dico che di testa le prende tutte lui. La difesa avvisata. Insieme qua a Raschelia. Ottimo intervento nel portiere. Continuano a premer sotto la spinta dei propri tifosi. Una chance importante dalla bandierina per trovare il gol. Il cross dentro, Verozimman. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. interviene ed evita guai. Non sono stati assistiti dalla buona sorte sulla conclusione di poco fa. Portiere non ci sarebbe mai arrivato. Il palo ha negato loro il gol del vantaggio. Guardala bene questa, occhio eh. Grande intervento del portiere. Mario Rui. Lobotka. Quaraschelia. Occhio a Quaraschelia. Palla per Rosimman. Palla per Lobotka. Suggerimento per Politano. Politano. 1-0. È arrivato il gol del vantaggio. Strameritato. Questa è l'azione del gol. Nei precedenti tentativi la difesa era riuscita a metterci una pezza. Stavolta però si è dovuta arrendere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Prosegue l'avanzata. Chance dalla bandierina. Caccia del pari. La mette in mezzo. D'applausi l'intervento del portiere su questa girata di testa. C'è tutto qui. Istinto, tecnica, senso della posizione. C'è tutto in questa parata. Occhio al corner. Bene qui il portiere che esce e elude il pressing avversario. Guadagna metri verso l'area. Osimeno. Ottima lettura difensiva. Riniere. Fanno girare il pallone. Non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Mario Rui. Silensky. Rissieme qua a Raschelia. Il pallone è recuperato molto bene qui. Prova a farla filtrare. Cerca l'appoggio al compagno. Non può sbagliare. Respinge allontana il pallone. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce Miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi. Batte lungo. Hanno annullato il vantaggio degli avversari. Hanno sfruttato questo calcio d'angolo alla perfezione trovando il gol come dimostrano le immagini. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Non c'è più tempo. Finisce la prima frazione. Simone Romagnoni. Fin qui non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano Lele. Sta faticando molto. Non riesce a toccare. Si riprende a giocare dopo un primo tempo chiuso in parità. È difficile fare pronostici. Palla schizza via dopo il contrasto. Può scambiare con il compagno. Alla palla del possibile vantaggio. E c'è il gol. Attenzione. Torna l'invantaggio. Vediamo il replay dell'azione di prima. Questo. Un gol di forza. Ha cercato. Voluto. Abbe fatto il portiere dopo aver eluso l'intervento dei difensori. Il punteggio adesso è di 2 a 1. Luca Marzitelli. Luca Marzitelli. Ecco Politano. Ottimo tempismo. Interrompe la manora avversaria. Osimene. Apre su Politano. Bravo nel saltare l'uomo. Di Lorenzo. Nuovamente Politano. Cerca la soluzione personale. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare. E non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Joan Jesus. Paraschelia. C'è sparsi. Attenzione. Riconquista un pallone importante. Pollirola. Anghissà. Osimene. Potrebbe anche calciare. Efficace l'intervento del portiere. Che salva. Palla che resta in campo. Ha dovuto impegnarsi qui. Palla regalata agli avversari. Lo bocca. Attaccano con più elementi. Interviene bene e spazza. Occhio perché ci sarà un cambio. Anghissà. Ottima difesa in area. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Prava il lancio profondo. Osimene. Palla in rete. Trova il gol del più due. Vantaggio che comincia a farsi importante. Questo gol merita di essere rivisto. È per far vedere come si calcia la palla. Potenza. Precisione. C'è tutto in questo tiro. Quarto gol della gara. Che fissa sul 3 a 1 il punteggio. Intervento fisico qui di difesa del pallone. Ottima lettura difensiva. Duello tutto di forza. Buono il contrasto. Occhio al tocco in mezzo. Pallone spazzato via. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Si giocherà ancora per due minuti. Possono colpire di rimessa. Ha fermato un'azione che poteva diventare davvero pericolosa. Ottimo il recupero. Arriva il triplice fischio. Si impone la squadra di casa. Se la sono dovuta sudare. Fino alla fine. Il punteggio è lì a testimoniarlo. L'importante però per loro è che sia arrivata la vittoria. Un rosimane in giallata di grazia. Devastante dal punto di vista fisico e tecnico il nigeriano. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pier. Mai un attimo fermo. Sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco. Oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi. Grazie per la sua prestazione.